La voce del Battista grida ancora nei deserti dell'umanità, cioè le menti chiuse e i cuori duri. Guardando dalla sua finestra la folla sottostante, quella che ancora stazionava all'esterno, rallentata dalle severe misure di sicurezza ai barchi di ingresso di piazza San Pietro, Papa Francesco ha fatto riecheggiare all'Angelus il messaggio di conversione del precursore di Cristo. Le parole del Battista, ha indicato, suscitano domande che scavano la coscienza cristiana. Ho nel cuore gli stessi sentimenti di Gesù nelle varie situazioni della vita. Reagisco senza animosità a chi mi ha fatto un torto, perdono di cuore a chi mi chiede scusa. Quello di Giovanni a raddrizzare i sentieri del Signore, ha insistito Francesco, è un invito pressante ad aprire il cuore ed accogliere la salvezza che Dio ci offre incessantemente, quasi con testardagine, perché ci vuole tutti liberi dalla schiavitù del peccato e testimoni appassionati di Gesù ovunque, dal lavoro a scuola, da un condominio a un ospedale, a un luogo di svago. Se ci guardiamo intorno troviamo persone che sarebbero disponibili a cominciare o a ricominciare un cammino di fede se incontrassero dei cristiani innamorati di Gesù. Non dovremo e non potremo essere noi quei cristiani, ma dobbiamo essere coraggiosi, abbassare le montagne dell'orgoglio e della rivalità, riempire i burroni scavati dall'indifferenza e dall'apatia, raddrizzare i sentieri delle nostre pregrizie e dei nostri compromessi.